25 milioni di euro versate dalle aziende brindisine al Ministero dell'Economia e mai rientrati e disponibili per la città di Brindisi. Ieri c'è stato questo incontro con il Vice Ministro dell'Economia Fassino, come è andata? Intanto fino alla fine del 2013 potrebbero addirittura diventare 30 milioni di euro versati dalle aziende brindisine. Al Vice Ministro Fassina ho ribadito che obiettivamente siamo di fronte a una situazione paradossale. Sono le aziende brindisine che hanno versato questi soldi presso il Ministero dell'Economia, passi il fatto che il Governo non ha contribuito con i propri finanziamenti alla bonifica del territorio, ma addirittura trattenere soldi di privati per eseguire interventi urgenti di bonifica siamo di fronte a una truffa da parte dello Stato nei confronti della città di Brindisi. Ho detto a Fassina che bisogna intervenire immediatamente, lui è perfettamente d'accordo, condivide questa linea. Adesso si verifica nelle pieghe del bilancio dello Stato se ci sono le risorse necessarie perché questi soldi vengano trasferiti al Ministero dell'Ambiente e quindi all'area di Brindisi. Diversamente, come involgeremo la Presidenza del Consiglio, una soluzione va individuata una volta per tutte. Ieri lei, sempre a Roma, ha avuto un incontro con Bubbico per quanto riguarda la situazione a Brindisi dell'ordine pubblico. Sì, il Vice Ministro Bubbico era già venuto a Brindisi, come ricorderete, a giugno, lo avevamo contattato con il Senatore Tomaselli proprio per tentare in qualche modo di stimolare una reazione da parte del Governo rispetto ai problemi del territorio. Adesso ho detto a Bubbico che ci troviamo di fronte a un aggravarsi della situazione e andiamo incontro al periodo natalizio. Non possiamo continuare a vivere in queste condizioni. C'è un impegno preciso da parte del Ministero dell'Interno, vedremo cosa produrrà nei prossimi giorni. Lei è preoccupato che questa notte c'è stato un ennesimo attentato? Che cosa sta succedendo? Ma è evidente che la criminalità organizzata ha alzato il tiro, è evidente che la situazione di crisi del territorio è davvero difficile, non ci sono prospettive nell'immediato dal punto di vista occupazionale, è evidente che non basta il grandissimo e proficuo lavoro delle forze dell'ordine e dobbiamo agire tutti insieme e individuare le soluzioni migliori.